Dalle api la vita, l'80% della nostra alimentazione dipende dall'impollinazione. E' bene ricordarlo agli adulti, è giusto insegnarlo ai ragazzi delle scuole che da oggi potranno imparare tutto sulle api al nuovo apiario didattico urbano realizzato al mercato ortofrutticolo da comune e apicoltori. Con quali messaggi? Far ritornare le api significa anche controllare per certi aspetti l'inquinamento, dove vivono le api vuol dire che l'ambiente comunque non è poi così male, ma avvicinarli comunque al mondo della natura è un valore che noi dobbiamo ritrovare per aumentare la sensibilità di questi bambini. Gli alveari qui sono dieci, da una casetta retrostante i bambini e i ragazzi potranno ammirare le api in tutta sicurezza e seguire l'estrazione del miele nel laboratorio dell'associazione apicoltori presso il mercato. Api da sempre sentinelle della salute dell'ecosistema e dell'agricoltura. Tra il 2013 e il 2015 gli apicoltori assisterono alle morie degli insetti a causa di trattamenti antiparassitari intensivi sul mais. Nell'arco degli ultimi tre anni abbiamo visto molta meno moria di api, abbiamo visto le casette molto più forti, abbiamo avuto più produzione, questo è un grande segno di salute. Al mercato è presente anche un giardino salva api con piante officinali mellifere che offrono agli insetti cibo e rifugio. Tutta la struttura è accessibile anche a persone con disabilità grazie a uno scivolo mobile. Tornando alle api, come stanno quelle di Vicenza e del Veneto? Le monoculture in qualsiasi zona, dalla provincia di Treviso a Verona, dove ci sono le monoculture, non fanno bene né per le api, loro sono le sentinelle dell'ambiente e se non fanno bene le api non fanno bene all'uomo.